ciao a tutti eccoci in questo nuovo video in questo nuovo video vi farò vedere il mio nuovo telefono non vi dico ancora qual è poi ve lo faccio vedere quindi come avevo detto con questo nuovo telefono potrò registrare clash royale e anche pokemon go e ora vi farò vedere appunto il ok questo è il mio nuovo telefono è il samsung s samsung galaxy s 6 g plus ok vedete questo l'interno bene andiamo ad applicazioni vedete ci stanno tutte vabbè e normale applicazione applicazioni poi vabbè se andiamo su su youtube abbiamo tutte le cose c'è il mio canale ecco qua c'è il mio canale andiamo vedete sono arrivato a 45 iscritti video playlist canali informazioni ok possiamo uscire poi ho installato anche qua youtube studio ci stanno tutte le informazioni poi va bene clash royale e pokemon go che registrerò poi da questo con mobizen infatti apriamo clash royale un attimo vedete c'è il mio profilo sono arrivato in arena 8 questo è il clan ok usciamo e poi c'è pokemon go un attimo che si apriamo ok non ti produrre luoghi pericolosi mentre giochi a pokemon go va bene vedete questo sono io ci stanno le vicinanze c'è un zubat e quello cos'è un bulbasaur mi sembra qualcosa del genere e ho catturato solo un pokemon quelli dell'inizio c'è armander c'è il pokédex vuoto andiamo qui andiamo gli strumenti c'ho 50 pokéball 2 a romi fotocamera incubatrice a uova ok possiamo andare dietro sta andando troppo veloce non dovresti giocare a pokemon go non sto guidando sono un passeggero anzi non so nemmeno in macchina tanto se lo vuoi sapere e si muove da solo vabbè poi farò dei video appunto mentre catturo i pokemon e possiamo uscire non mi fa uscire diciamo così chiudiamo tutte le applicazioni va bene quindi questo è il mio nuovo telefono samsung galaxy 6 age plus ok quindi se vi è piaciuto questo nuovo video del appunto del mio in cui vi mostro il mio nuovo telefono iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti